Vedere un'intera folla che applaude, che dà il sostegno, chi magari anche solo per porgere un bicchiere d'acqua, ma applaudendo pubblicamente e senza imbarazzo l'operato delle forze dell'ordine, per noi è molto gratificante. È stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento tra le vie del centro storico Aretino, anche grazie all'aiuto dei cittadini. In Amanette è così finita una 47enne tunisino. L'uomo, con precedenti alle spalle per spaccio e maltrattamenti familiari e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, con il divieto di uscire nelle ore notturne, è stato rintracciato dagli agenti di polizia nella centralissima piazza Guido Monaco. Alla vista delle forze dell'ordine, il 47enne ha tentato la fuga a piedi, trascinandosi dietro tavolini ed addirittura spingendo un carrello contro l'auto di servizio. Un inseguimento molto faticoso, però è stato importante avere il sostegno della cittadinanza, che alcuni cittadini indicavano la direzione di fuga del pericoloso malvivente, un altro ha raccolto addirittura un involico gettato a terra dal delinquente in fuga, che conteneva dell'ashish, delle tre stecchette pronte per lo spaccio. Alla fine la pattuglia è riuscita a raggiungere l'uomo in fuga e a riportarlo alla vettura di servizio per arrestarlo e condurlo negli uffici della questura. È stato per noi molto gratificante ricevere il plauso della cittadinanza, si è formato proprio un capannello di aretini che hanno applaudito l'operato della volante. L'arresto è stato difficile in quanto l'uomo ha reagito, provocando anche lesioni ai due operatori, un uomo e una donna, che entrambi sono stati refertati per sette giorni, accusano dolori alla spalla e discoriazioni, proprio per via della reazione violenta del cittadino. Il tunisino, che era già stato arrestato lo scorso anno durante un'operazione antidroga della squadra mobile, è risultato anche irregolare sul territorio nazionale. L'arresto è stato convalidato al momento il 47enne e in attesa di essere processato per traffico di stupefacenti.